il libro che state vedendo in primo piano è la prima copia la prima edizione della guida per il bartender guida per il bartender che è stata scritta da jerry thomas fu scritta jerry thomas e pubblicata nel 1862 1862 appare quindi il primo manuale per bartender con tutta una serie di ricette selezionate che poi punto jerry thomas più volte ci rimetterà a mano tanto è vero che poi usciranno varie edizioni di questo testo ora in italia sostanzialmente ce ne sono due di questi testi la prima edizione di quella che state vedendo è stata tradotta e pubblicata in italiano dalla sandit libri tra l'altro è stato il primo titolo o forse uno dei primi titoli dedicati alla collana dei grandi classici della miscelazione quindi si è cominciato con jerry thomas e poi vi sono anche altre edizioni tra cui l'ultima che non è questa naturalmente dove vi sono anche delle ricette eh già questa è un pochino più complessa comunque l'ultima dove vi sono anche delle ricette di preparazioni ad uso tra virgolette farmaceutico la sandit ha deciso di far tradurre e pubblicare la prima parte di questo testo che quella tra virgolette che interessa di più ai barman ossia le prime ricette di cocktail eh mai pubblicati addirittura qui comparirà il primo cocktail lo vediamo già qui tra cui troviamo il crusta sarà uno dei primi sarà il brand di crusta poi dopo di questo manuale anche altri autori pubblicheranno miserò harry johnson e tanti altri proviamo a sfogliarlo questa ovviamente è la prima edizione quindi non ci sono grandi cose però ci sono le ricette fondamentali che vengono suddivise anche in categoria ad esempio il punch ci sono anche delle illustrazioni come potete vedere sono tutte numerate sono divise per categorie quindi troviamo punch andiamo avanti ecco in alcuni vi è anche un pochino di storia e sono anche citati come in questo caso gli autori coloro che hanno passato la ricetta a Jerry Thomas che Jerry Thomas faceva anche questo raccoglieva ricette si faceva dare le ricette per poi segnalsele sul suo apposito quaderno e poi alla fine ha deciso di pubblicare quindi del punch ve ne sono diverse perché all'epoca nell'ottocento il punch era la bevanda più diffusa cioè una bevanda a base di cinque ingredienti fondamentali e da lì questo punch tra l'altro è rimasto nella tradizione americana anche in stranger things ad esempio si vede che la prima festa degli studenti era all'interno di un teatro dove c'era l'angolo dedicato alle bevande e al cibo al buffet dove c'erano questi grandi bull con un cucchiaio con un mestolo e dove ognuno si serviva da solo e naturalmente lì nell'angolo vi era sempre un professore che doveva controllare che in questo punch analcolico rigorosamente analcolico nel caso degli studenti non venisse aggiunto dell'alcol e quindi c'era anche questa cosa qui in alcune sempre nel libro di Jerry Thomas possiamo leggere anche alcune ricette dove sono usati i determini italiani ad esempio la patria punch che però in questo drink nessuno degli ingredienti proposti è italiano questo però gli è stato dato da Leland Leland è stato uno scrittore americano che ha visitato alcune nel suo periodo è stato in visita in Italia e soprattutto nel basso Lazio nel basso Lazio anche a Civitavecchia ha visitato tutte le necropoli etrusche eccetera ha scritto anche un libro e probabilmente la ricetta che gli dà Leland è dedicata proprio all'Italia anche se ripeto in questo caso non c'è nessun riferimento a un prodotto italiano infatti è fatto con tre bottiglie di champagne freddo, una bottiglia di cognac, sei arance e un ananas e quindi praticamente poi c'è tutto il procedimento andando avanti questi sono ancora punch vedete ce ne sono tantissimi di punch perché poi essendo la bevanda più in auge in quel periodo li ha descritti tutti li ha descritti compresa la storia volevo farvi vedere un'altra cosa poi ripeto questi questo testo è disponibile tradotto in italiano e consiglio di dare uno sguardo perché ci sono molte ricette anche che si possono riproporre anche se sono dei classici ecco c'è tutta la categoria degli eggnog eggnog praticamente zabaglione alla fine sono anche questa è una tipica bevanda americana soprattutto noi lo chiamiamo zabaglione ma in realtà in america dicono che è una loro bevanda tradizionale soprattutto diffusa nei periodi più freddi e a natale infatti qua viene scritto quindi ci sono anche gli eggnog tra cui il più famoso è il brandy eggnog che è stato anche per un certo periodo nella codifica IBA ci sono gioleps che sono serviti nell'apposito bicchiere anche qua c'è tutta la storia dedicata a questa bevanda questa è una tipica bevanda rinfrescante da servire soprattutto d'estate con frutta fresca e così via poi ci sono gli smash e così via i cobbler insomma tra cui anche visto che è cascato l'occhio lo sherry cobbler sherry cobbler solo nel 2024 è stato inserito ovviamente con una ricetta aggiornata nella settima codificazione IBA insieme ad altri e tutto qua vediamo l'ultima the cocktail e i crusta ecco qua i cocktail cosa scrive jerry thomas sul cocktail il cocktail un'invenzione moderna è utilizzata soprattutto c'è bevuta soprattutto durante gli eventi sportivi oppure la pesca e così via tant'è vero che veniva considerato un tonico da bere anche la mattina ti alzi e ti prendi il tuo cocktail e il il cocktail più importante secondo jerry thomas e il crusta il brandy crusta che poi lo ritroveremo e lo attribuisce a santina in realtà santina è un era un barman santina qui scritto santina ma in realtà era santini joseph questo potrebbe essere un refuso dell'editore dell'epoca ecco era un barman di new orleans e a lui è stato lui è stato colui che ha inventato il brandy crusta che dovremmo trovare più avanti ma prima di trovarlo come vedete ci sono anche tante altre bevande che sono cocktail tra cui una ovviamente una versione primitiva dello champagne cocktail c'è questo il gin cocktail il gin cocktail che ha fatto tanto parlare perché non è altro il gin cocktail sembra che sia stato quasi un antesignato del martinez e del martini anche se poi andiamo a vedere la ricetta è molto diversa dal martini che conosciamo noi oggi è più un tonico questo appunto famoso cocktail che serve da tonico c'è anche il japanese cocktail che qua c'è una storia non ha nulla di giapponese questo drink intendo come ingrediente ma è stato dedicato da jerry thomas al luogo dove lavorava lui che sorgeva presso l'ambasciata giapponese a new york c'è il gersi e così via ed ecco il famoso brandy crusta brandy crusta ripeto è comparso nella codificazione del 2020 ed è quello che insomma è uno di quelli che jerry thomas lo definisce come cocktail va bene e niente io vi auguro buona lettura sono a 262 pagine questa è la versione in che si può anche trovare in su web ma io vi consiglio quella ovviamente in italiano buon proseguimento a tutti